Musica Terminata in questo momento la cerimonia al Viola Park, emozione indescrivibile per tutta Firenze e non solo, specialmente per chi ha il cuore viola. Buonasera da Toscana TV, buonasera da Casa Viola, non perdiamo tempo, fiondiamoci subito al Viola Park dove c'è il nostro Fabio Ferri. Ciao Fabio, buonasera e grazie. Buonasera a te Gabriele, un saluto a tutti gli amici di Toscana TV, siamo proprio fuori dal Viola Park da dove abbiamo ovviamente seguito e raccontato l'inaugurazione di questo splendido impianto, da poco terminati anche i fuochi d'artificio. Io sono in compagnia di Giovanni Lamioni, holding Lamioni, quindi uno degli sponsor della Fiorentina, ma insomma dobbiamo dirlo anche alla guida del Grosseto con cui peraltro avete anche instaurato un buon rapporto di mercato mi verrebbe da dire con la Fiorentina. Ma prima restiamo sul Viola Park, una struttura veramente incredibile, l'abbiamo vista crescere, adesso però la vediamo sbocciare. Un vanto per Firenze, un vanto per i fiorentini, la dimostrazione del bene che Rocco Commisso e la sua famiglia vogliono la Fiorentina e la città, questo è un qualcosa che differenzierà quella che già di per sé è una delle città più belle del mondo, la differenzierà dal punto di vista sportivo con qualunque altra realtà similare non solo in Italia ma in Europa perché questo impianto, questa struttura è meravigliosa, è veramente avveniristica e io credo che questo rappresenta anche un elemento di rafforzamento della società, della squadra perché quando si può annoverare queste infrastrutture diventa tutto più facile, diventa tutto più semplice. Mi ricordo quando Prandelli diceva che un centro sportivo porta cinque punti a fine stagione, auguriamoci che sia così ma di sicuro questo è un regalo meraviglioso che la famiglia Commisso ha fatto a questa città. Un regalo alla città, sicuramente uno strumento in più per crescere per la Fiorentina e anche l'occasione poi di far crescere i tanti giovani che fanno parte appunto della Fiorentina vicino ai campioni della prima squadra. Oggi Commisso si è soffermato anche su questo aspetto, sul fatto che questo sarà un centro non solo dedicato a più generi, uomini e donne, ma anche a più età, a più generazioni di giovani viola. Ma sì, ma questo è il futuro, una società ambiziosa chiaramente deve avvalersi di giocatori affermati ma ha l'obbligo anche di far crescere i giovani dal proprio vivaio. Ma noi un esempio l'abbiamo del tutto attuale in prima squadra con Caio De, insomma proviamo a pensare se non avessimo avuto questo ragazzo che veramente sembra giochi a calcio da dieci anni invece ai massimi livelli, invece da tre partite come ci saremmo trovati oggi con l'infortunio di Dodò, invece dal settore giovanile è esploso questo giocatore, è una risorsa fondamentale. Io credo che un centro sportivo come questo sia foriero per un settore giovanile di far crescere e portare in prima squadra tanti tanti giovani, perché ripeto una società oculata interviene e investe su giocatori affermati ma fa anche crescere i propri giovani. Oggi oltre al ministro Abodi era presente un po' il gota del calcio europeo, peraltro insomma è intervenuto anche il presidente FIFA Infantino attraverso un videomessaggio, ma anche il presidente Malagò ha fatto sentire la sua vicinanza, dimostrazione che questo è un impianto che non si ferma dentro i confini di Firenze per la sua bellezza, anzi travarica questi confini e fa della Fiorentina come diceva una società modella a livello europeo. Ma io credo che oggi la Fiorentina sia una realtà ammirata e osservata non più solo a livello nazionale. A livello nazionale direi che è facile perché sono risultati che parlano per noi, ma io credo che quello che sta facendo la famiglia con Miss e questo centro sportivo stia attirando l'attenzione di tutto il gota del calcio europeo e non solo. E questo è molto molto importante per noi che per tanti anni ci siamo considerati figli di un dio minore da un punto di vista di considerazione delle istituzioni calcistie. Oggi le istituzioni calcistie hanno una grande considerazione, una grande ammirazione per la Fiorentina e questo è molto importante. Da uomo di calcio le chiedo anche un parere sulla Fiorentina che stiamo osservando in questo momento perché è la ciliegina sulla torta sul periodo questa inaugurazione, visto che la Fiorentina sta andando e sta andando veramente molto bene in campionato. Ma il Presidente ha detto che l'obiettivo è quello ogni anno di far meglio dell'anno precedente e credo che sia un obiettivo intelligente. Io credo che noi faremo sicuramente meglio in campionato, mi auguro molto meglio. Il mio sogno però quest'anno sarebbe di andare a Atene e di tornare con uno spirito completamente diverso da quello che avevo quando sono tornato a Praga. E ovviamente riferimento alla finale di Conference League che quest'anno si disputerà proprio nella capitale greca. Chiudiamo una battuta anche sul suo grosseto, lo rivedremo presto tra i professionisti? L'obiettivo è questo, vale per la Fiorentina di migliorare. Noi l'obiettivo ce lo siamo dati senza ipocrisia, vogliamo vincere il campionato e andare in Lega Pro. Ci stiamo provando in tutti i modi. Grazie mille Giovanni Lamioni, Holding Lamioni. Grazie mille per davvero anche per il supporto che dà alla nostra Fiorentina. Gabri, ovviamente vi abbiamo preso un po' in contropiede perché vi avevamo professo un collegamento con Daniele Terrinanzi che comunque qua con noi, il collega di Radio Sportiva, tra poco sentiremo anche lui sul racconto di una giornata assolutamente intensa con tantissimi interventi, come ho detto insomma da quelli arrivati via video di Infantino e Malagò ma anche da quelli in presenza del ministro dello sport Abodi, del sindaco Casini, insomma tutte le istituzioni presenti, il sindaco Nardella, è stata davvero una grande occasione per celebrare un impianto sportivo che si spera possa dare nuova linfa alla Fiorentina, farla crescere anche oltre quanto è stata grande fino ad oggi. Vedo al mio fianco anche il direttore Talluri e quindi insomma colgo l'occasione chiedendo ancora un minuto di pazienza al collega Daniele Terrinanzi perché direttore vogliamo commentare insieme questa bella serata, una serata a cui Toscana TV, Firenze TV erano protagoniste, erano partecipi per raccontare appunto un giorno storico per Firenze perché questo non è un giorno storico solo per la società ma anche per la città. Ma insomma è stato uno spettacolo secondo me a parer mio davvero di un livello altissimo. I droni hanno fatto impazzire tutti? Oggi la proprietà ci ha fatto vedere quanto davvero le potenzialità, no? Quando si dice che spesso in Italia ci si lamenta. Io penso, io mentre guardavo questo spettacolo pirotecnico, la tecnologia... Che stiamo vedendo? Soprattutto la bellezza del Viola Park, pensavo a quanto... Stiamo vedendo le immagini? Di solito quando noi si va all'estero ci capita di tornare con i voli su Peretola eccetera e si dice quanto è ferma l'Italia, quanto all'estero viaggiano veloce, quanto fanno cose importanti che proiettano le loro città, i loro paesi, le loro nazioni nella contemporaneità. Oggi Firenze dimostra di saper stare nella contemporaneità grazie alla capacità di investimento e alla visione di questa proprietà. Un investimento privato ci ha tenuto a sottolinearlo Rocco Commisso, parlando anche delle difficoltà incontrate affrontando la burocrazia italiana. Mi sembra che si ricolleghi bene anche al discorso dell'aereo che ci riporta da varie destinazioni in Europa in un'Italia che tante volte viaggia a una velocità un po' più rallentata. È l'Italia dei veti incrociati, è l'Italia che per fare una cosa ci mette sempre tanto. Io ieri parlavo a Telegram da Alessio Poggioni e si parlava del fatto che sulla loggia di Isozaki siamo stati 25 anni a discutere e 25 anni, si possono leggere, come 25 anni o come un quarto di secolo, dove si discute per un quarto di secolo se farla o no e poi non si fa. Credo che questa sia la risposta a quell'Italia dei veti incrociati. Il Rocco Commissi ha provato più volte a dirlo, però sulla questione stadio invece secondo me bisogna essere un pochino più lucidi nell'affrontare il tema pubblico-privato perché nel momento in cui la sovrintendenza dice che quel bene è vincolato e che diventa una cosa diversa rispetto ad un oggetto alienabile, allora bisogna stare non sull'emotività ma su quello che le regole impongono di fronte a una scelta della sovrintendenza. Anzi con orgoglio io penso anche per una struttura come il Franchi che oggi sicuramente ha i suoi anni ma è stata senza dubbio al pari del Viola Park una impresa a livello di costruzione davvero irripetibile insomma è Nervi apprezzato e studiato in tutto il mondo. Oggi si è parlato anche di calcio inevitabilmente perché insomma questo poi dovrebbe essere l'argomento che ci scalda il cuore e il motivo per cui è sorto questo bellissimo centro sportivo Comiso non vuole più vedere andare i giocatori alla Juventus adesso che ha un centro sportivo di questo livello. No ma poi il calcio io credo e poi ne parlavo anche con altri colleghi anche della stampa nazionale si diceva che il calcio poi è una tribù, i procuratori, gli allenatori, i giocatori si parlano e quando si sparge la voce si dice ma l'hai visto che hanno fatto a Firenze allora la voglia di venire a giocare qua diventa quasi un obiettivo e non più un passo di lì ci sto un anno e me ne vado quindi questo credo sia la grande scommessa grazie a questo investimento per riproiettare la Fiorentina laddove è stata negli anni che furono e che nel calcio attuale potrà farlo soltanto con l'appeal che tutta questa roba in combo con la forza di una città famosa nel mondo può dare. Che spinta può dare? Prima Lamioni diceva un centro sportivo citando Prandelli può dare 5 punti in più 5, 10? No io questo non mi permetto di dirlo, non lo so quanti punti può dare so soltanto che appunto un giocatore bravo, un ragazzo bravo della primavera e dice io voglio andare a giocare lì nella primavera e poi magari diventa campione qui è questo secondo me oggi che dobbiamo guardare non quanti punti può portare oggi per la squadra d'Italiano nella stagione 2023-2024 questo io non lo so e non mi permetto di dirlo Quindi lo sguardo rivolto verso il futuro, verso quanto potrà dare Questa iniziativa, questo investimento è la contemporaneità per una cosa bellissima ma è la proiezione del futuro Certo, certo, certo. Non possiamo aspettare che il Viola Park cominci a sfornare campioni sin da oggi ma sicuramente col tempo arriverà sicuramente anche questa opportunità e questo grande valore aggiunto per la Fiorentina Direttore grazie mille Grazie a voi, buon lavoro Grazie, grazie Gabri come vedi insomma tanto entusiasmo ovviamente per questa inaugurazione come vedrai alle mie spalle scorre anche pacifica la fiumana di tifosi ricordo erano 3000 oggi i tifosi della Fiorentina intervenuti per l'appuntamento erano ovviamente stati invitati tra i tifosi che sono in possesso di abbonamento tanto mi raggiunge anche Daniele Tirinnanzi che saluto Gabri non so se vuoi fare domande da studio Allora, a Tirinnanzi io intanto che saluto e ringrazio per essere con noi vorrei chiedere non solo il lato emozionale ma proprio quello tecnico perché si è tanto discusso della parte dei campi, dei terreni di gioco, della palestra di tutto il comparto che può aiutare effettivamente la squadra a raggiungere obiettivi più importanti quindi vorrei il suo parere perché sappiamo che in Radio Sportiva sono molto attenti sul comparto tecnico Sì, assolutamente, guarda Daniele la riflessione è oggi sicuramente è una giornata che ci tocca al cuore che è molto emozionante e che quindi ha un valore da quel punto di vista là però voi di Radio Sportiva siete molto attenti soprattutto anche al lato tecnico del calcio e questo è un impianto che abbiamo provato a raccontare in tutte le sue funzionalità i campi, tutti gli strumenti che sono messi a disposizione della squadra che impressione hai, che tipo di struttura hai visto anche all'interno durante la presentazione Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera a tutti Fabio e a chi ci guarda e ci ascolta ma io prima di tutto un dato, non sembrava di essere in Italia stasera è la cosa che è balzata maggiormente agli occhi è una serata particolare, speciale, una serata per Firenze, lo ha sottolineato commisso parlando anche con colleghi addetti ai lavori è difficile trovare un punto di paragone italiano con una struttura del genere ci sono situazioni similari, penso a Zingoni a Bergamo penso alla continessa per la Juventus penso ai campi di allenamento e ai centri sportivi di Milan e di Inter ma qui c'è un tocco in più a pochi chilometri da Firenze all'interno di una realtà che può stare effettivamente davvero a contatto con i tifosi il paragone che però viene fatto maggiormente è a livello internazionale si parlava dei centri del Bayern, di quello del Tottenham, di quello dell'Ajax che sono riconosciuti in campo internazionale direi che è una bella serata, che è una struttura molto poco italiana per citare anche qualcuno di nobile direi che è un qualcosa per cui gonfiare il petto di questi tempi e non solo per quanto riguarda la Fiorentina ci mancherebbe, non è una cosa di poco conto anzi commisso è abituato ai campus americani li ha vissuti in prima persona insomma questo sembra un po' un campus americano con le sue dimensioni enorme, con i suoi spazi incredibili con la polifunzionalità perché poi qua dentro non si gioca solo a calcio o meglio si può fare anche più che il calcio e basta sì, sicuramente, sicuramente te l'ho detto, è qualcosa di poco italiano per come siamo abituati a pensare le strutture sportive e per come siamo abituati a vivere le strutture sportive che possa essere il sasso che muove la valanga purtroppo non lo so purtroppo non lo so la presenza di esponenti politici di numeri uno delle istituzioni internazionali ci dà la speranza che lo possa essere purtroppo questo da solo non basta commisso lo ha detto e tra gli spunti principali sulla questione stadio dice mi sono messo il cuore in pace cioè adesso sarà un problema tra virgolette del comune di Firenze, di Nardella di chi gli succederà verso gli europei del 2032 per portare avanti la candidatura del Franchi per quell'appuntamento credo sarà un problema servono però i regolamenti a livello politico a livello nazionale che per il momento non ci sono un segnale anche visivo e di impatto come quello di questa sera non ci dà la certezza che si possa muovere qualcosa ce ne dà la speranza direi piccola parentesi politica della serata tra mille e più applausi dello stadio Curva Fiesole i fischi appena è stato nominato Nardella insomma direi da parte del pubblico dei tifosi della Fiorentina che era presente è un dato politico sportivo probabilmente da sottolineare e da analizzare Sì, soprattutto con l'avvicinarsi anche delle elezioni tu parlavi dei numeri uno presenti in questa serata io ti devo dire che sinceramente la presenza di Sheffery o il videomessaggio di Infantino mi danno proprio la dimensione di una Fiorentina internazionale una dimensione che forse la Fiorentina ha avuto poche volte nella sua storia Sì, è vero è vero nonostante insomma le situazioni che hanno fatto arrabbiare la Fiorentina con la UEFA penso alla finale di Praga con il West Ham penso se vogliamo anche ad alcuni arbitraggi nell'ultima Conference League che ci hanno fatto vivere delle prime volte sulla nostra pelle non banali però insomma la Fiorentina adesso grazie a una serata come questa ha ancora di più la sua bandierina sulla mappa ecco è un segnale sicuramente sicuramente importante in passato qualcosa di simile non c'era mai stato almeno a livello fiorentino è una bella prima volta anche questa senti un'ultima domanda poi ti liberiamo anche perché insomma è stata lunga la giornata anche per te a livello lavorativo abbiamo visto Jack Bonaventura accolto in questa occasione non come giocatore della Fiorentina certo come giocatore della Fiorentina ma soprattutto come giocatore della Nazionale ragazzo che ritorna a Nazionale dopo se non sbaglio tre anni e che è un simbolo per la Fiorentina questo centro sportivo però ha l'ambizione di costruirne altri di viola azzurri ne vedi già qualcuno in divenire e ovviamente i nomi che mi viene da fare sono quelli di Caiode si è parlato addirittura di Ranieri forse è un po' prematura come tipo di chiamata Parisi un altro giocatore che potrebbe far parte del progetto azzurro di Luciano Spalletti insomma vedi la possibilità di una Fiorentina sempre più azzurra appunto beh quella quella è una speranza anche perché calciatore in Nazionale significa aumentare il valore tecnico economico di una rosa e sappiamo quanto conti altrimenti non staremo qui a decantare insomma l'investimento che ha fatto che ha fatto Rocco Commisso i nomi che hai fatto tu sono sicuramente importanti la presenza di Luciano Spalletti anche nelle ultime partite della Fiorentina da spettatore non è passata inosservata Buonaventura ha ricevuto più di un Oscar alla carriera perché è una convocazione che non gli viene data forse una tanto ma è questo il bello ma perché può avere un ruolo chiaramente non nell'undici ma nella rosa della nazionale anche di leader volendo visto il profilo anagrafico gli auguro gli auguro anche per per l'europeo perché significa che avrà fatto benissimo con la Fiorentina e che l'Italia va all'europeo cosa non scontata verso sabato e la partita di martedì detto questo Cajode sta esplodendo ha deciso un europeo under 19 è nel giro dell'under 21 direi che il prossimo può essere sicuramente lui e se continua con le prestazioni che sta che sta facendo sicuramente sicuramente Parisi darà filo da torcere a Biraghi su due fronti non solo più su uno eh sì lo rincorre lo rincorre 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 Biraghi ovviamente grazie mille Daniele perché davvero è stata una giornata lunga però penso sia stato un piacere raccontarla perché è un momento storico per Firenze grazie sì assolutamente grazie buona serata buon lavoro a voi ciao Fabio grazie mille grazie mille al collega di Radio Sportiva Daniele Tirinnanzi insomma abbiamo provato subito in apertura di questo appuntamento a darvi la voce dal Viola Park tra poco insomma vedo che ci sono anche dei tifosi che vogliono intervenire venite pure no vieni vieni guarda Fabio guarda Fabio Gabriele mi dicono che mentre tu fai l'opera di convincimento ma ci sei già riuscito ho già visto con il buon Davide Cercandini ma non penso ci sia bisogno di convincimento no esatto però parlavi di Ceferin prima e di commisso insomma grazie alla regia di Leonardo Aluesa e Salvadori hanno fatto un lavoro splendido in regia assieme all'editore Maurizio Salvi direi di andarceli a sentire perché insomma l'emozione di commisso veramente in queste immagini si percepisce in modo eloquente sentiamo il sottofondo fatelo voi dai se li saluta tutti i suoi ragazzi e le sue ragazze grazie Rocco da invitarmi il mio italiano non è buono 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 ma può dire che il Viola Park è meraviglioso e grazie Rocco e grazie Fiorentina ecco hai portato un regalo per Rocco Rocco vuole leggere direttamente quello che c'è scritto questo in inglese Club's home has the colors of the heart of its people la casa del club ha i colori del cuore dei loro tifosi grazie cosa sta provando in questo momento se comincia a parlare piango ok ma voglio dire va bene fa parte della vita come sei bene io voglio dire voglio ringraziare molto molto gente qui ha i tifosi che sono tutti qui io credo che io che stasera se c'era più spazio invece di 3.000 ci sarebbero il minimo 30.000 ok perché Firenze ci vuole bene alla Fiorentina Firenze vuole bene alla Fiorentina e termina Rocco Commisso con come chiamano gli inglesi voice cracked con la voce rotta quasi in lacrime 3 4 2 19 71 8 7 1 come sapete è sempre il numero per intervenire con la nostra messaggistica i messaggi sono già tanti dopo ne leggeremo qualcuno però è giusto sentire la vostra voce come quella dei tifosi che sono a Viola Park assieme al nostro Fabio Ferri e degli amici di Solo Viola che ormai su Toscana TV hanno praticamente preso anche la residenza vai Fabio eh sì eh sì hanno già la residenza non so se hanno chiesto anche quella per il Viola Park sono sicuro che insomma gli piacerebbe associazione eh solo Viola che ritroviamo con grande piacere allora ci siamo detti prima il consigliere poi il presidente giusto? facciamo così in quest'ordine eh allora insomma ci vuoi raccontare questa giornata io ho detto storica non solo per la Fiorentina ma anche anche per la città di Firenze detto che siamo a Bagnarripoli ma insomma dai allora innanzitutto ciao Gabriele e niente è stata una serata incredibile 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 perché non ci sono parole per quello che ci ha regalato la Fiorentina stasera io veramente avevo brividi ho avuto brividi per tutta l'ora e mezzo dello spettacolo e l'entusiasmo è palpabile adesso anche passando degli amici vi hanno salutato pochi istanti fa è passato anche il pullman della Fiorentina con la prima squadra a bordo è stata l'ultima squadra a essere presentata insieme a quella femminile però ovviamente è stata una lunga cavalcata anche alla scoperta di tutte le squadre del settore giovanile della Fiorentina che vivranno insieme ai campioni della prima squadra questo bellissimo impianto come una vittoria mi dicevi veramente è stata una serata davvero emozionante per tutti noi una cosa che rimarrà a Firenze negli anni ci sono convinto di una struttura in questa maniera ci porterà veramente tanti frutti negli anni quindi questi giovani stasera erano proprio al centro del campo quasi a simboleggiare che da qui si parte verso un futuro veramente importante grazie a questo settore giovanile che poi riuscirà a crescere a fianco della prima squadra sono convinto da qui usciranno campioni veramente campioni del futuro della Fiorentina per ovviamente innalzare il livello della squadra e per mi verrebbe da dire anche instillare un senso di appartenenza a questa maglia infatti io prima l'ho chiesto anche a altri anche altri intervenuti adesso Commisso non vuole più vedere i giovani o comunque i giocatori talentuosi andare in quella squadra là ha ragione ha ragione infatti l'ha detto proprio bene speriamo anche che il senso di appartenenza cresca in questi giocatori io personalmente ho proprio voglia di venire a vedere le partite qui perché è uno stadio bellino giuste dimensioni per venire a vedere le giovanili seguire anche il campionato femminile onestamente sono veramente emozionato una serata bellissima che davvero mi viene quasi da pensare una cosa la posso dire si fa un appello vai fategli fare lo stadio a questo signore veramente perché dopo una struttura a questa maniera la prossima ciclicina sarebbe lo stadio e quindi insomma questa la speranza almeno di una parte del tifo così si può dire senza dubbio detto che insomma oggi sono arrivate notizie inerenti l'europeo 2032 che coinvolgerà l'Italia oltre che la Turchia la speranza è quella di vedere il franchi pronto per ospitare quell'evento chissà magari può essere anche una spinta in più avere l'europeo anche a livello economico magari speriamo noi come tifoseria abbiamo bisogno di uno stadio che sia coperto che sia adiacente veramente al rettangolo di gioco perché già stasera quando si cantava non so se ci avete fatto caso ma già con l'opertura è tutta un'altra cosa molti questa cosa non ci pensano però se non si avesse uno stadio come qualche altra squadra si farebbe ancora di più la differenza ecco ve lo voglio chiedere Prandelli diceva i famosi 5 punti in più voi invece che ne pensate? io dico anche 7-8 più 2 se ci sa lo stadio coperto 10 sì no allora qui è una cosa grossa secondo me che oltre ai punti dà il senso d'appartenenza e dà tante cose voglio sottolineare anche per chi un po' è polemico però stasera la società ha dimostrato secondo me che il senso d'appartenenza lo sta imparando a avere anche lei e ha capito cosa è importante per noi tifosi e per Firenze che ecco fa un appello anche io ci accerchiamo di stare uniti perché ora è fondamentale i critici che devono capire che questo centro sportivo bellissimo che abbiamo scoperto ancora meglio oggi insomma comincerà a dare i suoi frutti nel prossimo futuro quindi c'è da aspettare e da aspettare una Fiorentina che possa essere rigogliosa ecco sotto questo punto di vista grazie mille ragazzi grazie grazie e grazie agli amici dell'associazione Solo Viola Gabriele qua ovviamente abbiamo anche qualche tifoso che vuole intervenire non so se preparati mi vuoi dare in là anche per sentire preparati con piacere allora ci prepariamo intanto dai ma sì anche perché insomma ci sono diversi messaggi salve a un impianto moderno e innovativo complimenti a tutti ovviamente complimenti li giriamo alla società Fiorentina Commiss ha regalato un sogno a Firenze che possa regalare anche il terzo scudetto questo era Mauro da Pontassieve mentre Giulia ci scrive grazie per farci vivere queste immagini ma ovviamente insomma cerchiamo di fare il possibile un altro aspetto è quello sul lato tecnico ce lo chiede Maurizio che dice ma secondo voi quanti punti può guadagnare in campo la Fiorentina? Beh per noi è complesso rispondere però magari ci ha provato all'inizio all'inizio della cerimonia Daniele Pradè direttore sportivo della Fiorentina che anche sul comparto tecnico insomma ci è entrato lambendolo però facendo intravedere qualche suo pensiero allora sentiamolo questo qui aiuterà fortemente Firenze sia questa non è una cosa solo per la Fiorentina è anche per Firenze questo è un biglietto da visita importante può essere un biglietto da visita secondo me fondamentale anche per quello che sarà il futuro degli stati perché una cosa così bella chiama altre cose belle noi ce l'aspettavamo di far bene ce l'aspettavamo di far bene però io sono un direttore navigato significa che sono un capitano che sa gestire qualsiasi situazione e come la sosta dell'Inter che è stata una sosta dura noi ci siamo parlati eravamo sereni e abbiamo pensato ai partiti successive questa sosta la dobbiamo prendere nella stessa identica maniera nel senso non non plagiarsi su questo e pensare subito che dobbiamo riniziare forte questo è quello che io ho detto al Minister perché è facilissimo passare da un mare calmo al mare mosso facilissimo passare da un mare calmo a un mare mosso quasi ad evidenziare che è anche una struttura come il Viola Park che adesso sta dando chiaramente tantissima gioia però attenzione e poi il monito per lo stadio di Daniele Pradè all'inizio della cerimonia ha anche parlato il direttore generale della Fiorentina Gio Barone con il ringraziamento ovviamente a tutti però insomma parole interessanti e allora andiamo a sentirle il primo saluto ce lo dà il direttore generale della Fiorentina Gio Barone buonasera popolo Viola che emozione Carlo sono veramente emozionato non è il mio stile ma sono sono emozionato sì tanto è un sogno che si realizza sì è un sogno e sono orgoglioso molto orgoglioso per per quello che Rocco tu hai fatto perché dal primo giorno la tua passione la tua passione la tua visione quella di tua moglie voglio ringraziare anche Giuseppe che ci sta guardando Giuseppe Commisso che è negli Stati Uniti ci sta guardando girare l'Europa con Giuseppe e scegliere qui il terreno è stato veramente un'emozione poi ci sono tante persone da ringraziare c'è da ringraziare il sindaco che ha un grande futuro di Bagnaripoli Francesco Casini c'è anche da ringraziare il sindaco di Firenze della città matropolitana e Dario Nardella che è qui presente no 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 stasera è solo festa stasera è festa poi c'è da ringraziare tutte le persone che hanno lavorato qui come ha detto Carlo Marco Casamonti grazie sei un archistar c'è una visione molto più grande di tanti altri Giovanni Nigro ti voglio bene sei un emergente un imprenditore di altissimo livello poi voglio ringraziare la mia famiglia mia moglie Camilla che è qui presente i miei figli e soprattutto il mio nipotino Giuseppe che è qui grazie grazie di cuore a tutti voi insomma tanta l'emozione e anche quel quel pizzico di fischi al sindaco fa capire che Firenze come al solito tra Guelfi e Ghivellini si spacca allora io tornerei al Viola Park da Fabio Ferri per analizzare insieme i numeri di questo Viola Park quanto effettivamente ha speso Rocco Commisso e cosa ha strutturato quindi intanto ritrovo Fabio con piacere allora Fabio ti racconto questi numeri e che chiaramente puoi anche seguire tu dal tuo monitor di servizio piccolo ma efficiente che hai in mano eccolo qua le cifre del Viola Park con 26 ettare di superficie 12 campi regolari due stadi da 3.000 e 1.500 posti 67 uffici e ovviamente uno è di Fabio Ferri quindi bisognerebbe mettere 66 nella grafica ormai è andata così 400 parcheggi 19 sale e riunioni 75 camere per una spesa oltre i 110 milioni di euro Fabio beh insomma che c'è da dire che c'è da aggiungere sono numeri che praticamente si commentano da soli un investimento importantissimo che lo rimarchiamo ancora una volta è assolutamente esquisitamente privato quindi un investimento della famiglia Commisso questo è un impianto che come ci raccontava anche Daniele Tirin anzi non ha uguali a livello italiano e può essere paragonato solamente a qualcosa che si trova in Europa però nelle società di livello top veramente del nostro continente o come suggerivo anche io molto modestamente a me dà proprio l'impressione di un campus di un campus universitario come quelli che ha frequentato Commisso come quelli che Commisso o conosce per via ovviamente della sua appartenenza statunitense è un centro sportivo che peraltro insomma ha richiamato sin da subito grande entusiasmo da parte dei tifosi perché qua a Bagnarripoli insomma si è fatto un po' le vasche come si suol dire in gergo con tante persone che tanti giorni consecutivi si sono affacciate hanno provato a spiare hanno provato a capire anche in divenire cosa sarebbe diventato questo Viola Park che oggi veniamo finalmente completo e finalmente accessibile anche ai tifosi insomma c'è stato totalmente tanto traffico che ad un certo punto anche l'amministrazione di Bagno a Ripoli ha dovuto dire ehi ragazzi stoppiamo un attimo il parcheggio selvaggio lungo la strada perché rischiava di diventare pericoloso ma insomma questa è la dimostrazione di quanto anche questo centro sportivo abbia riacceso la passione e i numeri che citavi tu sono assolutamente numeri incalcolabili numeri che non si possono commentare si possono solo osservare e da questi ci facciamo raccontare la grandezza la bellezza la funzionalità di un centro sportivo che abbiamo visto in funzione magari in maniera limitata anche durante la preparazione estiva a me viene in mente l'esempio che ogni impianto all'interno del Viola Park è condizionato che non è una cosa banale e non lo è soprattutto quando si parla di preparazione estiva poi un'altra cosa Fabio ora non è un segreto ovviamente tu con la Savino del Bene giri tutta Europa vedi tantissimi impianti sportivi e diciamo ti sei fatto anche un'idea di cosa c'è fuori dal nostro stivale anche a livello strutturale proprio riguardante sia la città sia il palazzetto all'interno di una città e sia ovviamente la struttura tecnica in quel caso per la palla a volo ovviamente Fabio dove ti voglio portare ti vorrei portare con un pensiero di quanto il Viola Park in un certo senso si incastri con la classe dimensionale per Firenze perché la sensazione è che sia una struttura talmente all'avanguardia talmente bella che non ha precedenti riguardo ovviamente a strutture extra arte perché l'arte non si tocca però a strutture extra arte sembra la percezione che il Viola Park non abbia uguali diciamo che al bello siamo abituati Gabriele perché questa è una città assolutamente fantastica e insomma noi fiorentini a volte siamo anche accusati di essere un po' troppo orgogliosi no? però tutta la bellezza che siamo abituati a vedere va dall'epoca romana degli imperatori romani fino al rinascimento forse qualcosa nel risorgimento però di bello e moderno a Firenze purtroppo mi viene da dire non c'è poi così tanto oggi questo Viola Park è qualcosa che si arriva a incastonare in una città già bella ma che gli dà una dimensione internazionale tutta nuova cioè oggi Firenze è centrale prima dicevamo Ceferin era presente il ministro Abodi era presente Infantino comunque ha voluto far arrivare un messaggio qua ecco io non so quante volte il presidente della FIFA prima di oggi aveva detto il nome Fiorentina e oggi il fatto che il nome Fiorentina sia su queste labbra su queste bocche importanti insomma dà la dimostrazione che qua si sta facendo un salto di livello si sta facendo un salto di qualità che speriamo poi sia seguito anche da un salto di qualità sul campo come dicevamo però questo è il primo passo poi c'è chi dirà eh sì ma il centro sportivo non segna il centro sportivo non fa gli assist beh secondo me è un ragionamento veramente cieco e poco lungimirante invece bisogna guardare al futuro e a quanto questo Viola Park trasformi come detto Firenze in una città ancora più di livello internazionale ancora più avanti rispetto a tante altre città italiane Fabio da casa un omonimo Gabriele scrive ho sentito che i tifosi vogliono uno stadio coperto perché allora non protestano contro quelli che mettono bastoni tra le ruote per il nuovo Franchi visto che uno stadio nuovo di fatto non si farà Pierfrancesco invece scrive ciao scusate la domanda forse banale no assolutamente le domande non sono mai banali qual è il vero motivo che impedisce a Commisso di far costruire un nuovo stadio il Franchi inutilizzato o altro qui ci vorrebbe altre tre puntate per spiegarlo ma magari tu Fabio con la tua sintesi riusciresti un amico che non si filma dovrebbe essere Alessio scrive Rocco Commisso a Viola Park è semplicemente meraviglioso visto che per il centenario della Viola non avrevo un nuovo stadio e non per colpa di questa proprietà allora Rocco Commisso portaci lo scudetto beh assolutamente guarda oggi il protagonista è stato Rocco Commisso come dicevi tu con la sua voce rotta con la sua emozione genuina autentica insomma ha dimostrato anche il suo lato umano di fronte a un'opera così grande che è riuscito un imprenditore così importante a portare a termine probabilmente si è commosso anche lui ma era normale che fosse così per quanto riguarda lo stadio beh io non so se incontrerò il compiacimento di tutti però devo dire che insomma ad oggi il discorso stadio è un discorso che sta andando avanti sebbene con ancora dei tratti da definire il discorso stadio sta andando avanti e insomma l'idea è quella di arrivare al 2026 magari appunto anno del centenario con un franchi già ristrutturato ci sarà da capire quali sono anche poi le decisioni di Fiorentina e Comune di Firenze per quanto riguarda i lavori quando partiranno se partiranno perché ad oggi non c'è l'assegnazione nemmeno per l'azienda che dovrà farli i lavori di restyling del franchi però insomma c'è da capire poi dove andrà a giocare la Fiorentina io quello che voglio dire è che ad oggi Comunso ha fatto un passo indietro sotto quell'aspetto quindi non è Comunso a Comunso non è che non viene fatto fare lo stadio Comunso per il momento ha detto io non ci voglio più mettere la testa su questo argomento non voglio più che sia una istanza che deve portare avanti la Fiorentina con le sue risorse ma visto che appunto l'amministrazione e lo Stato italiano hanno deciso di procedere per una via pubblica che vadano avanti loro che vadano avanti così noi sappiamo benissimo che mancano i famosi 55 milioni di euro che l'Europa ci ha detto non verranno impiegati sull'impianto del franchi si sa anche che il progetto di Arup quello del restyling si può compiere si può portare a compimento anche senza quei 55 milioni mi verrebbe da dire che un ottimo assist potrebbe arrivare dall'europeo assegnato all'Italia a Turchia che potrebbe portare dei fondi da investire proprio sugli impianti sportivi e perché no magari anche proprio sul franchi che ci auguriamo sia uno degli stati protagonista del europeo per quanto riguarda lo stadio però signori io voglio come ha detto anche il direttore fare un punto e chiedere anche un po' di pazienza perché di fatto di fatto ad oggi non si può dire che a Rocco Commisto viene impedito di fare lo stadio Fabio prima di salutarti la domanda la facciamo da studio molto secca hai la percezione anche visto gli ospiti che citavi Ceferin su tutti che la Fiorentina finalmente anche agli occhi del mondo è una grande squadra ma si è proprio questo Gabriele io non ho mai sentito una sensazione del genere cioè nei miei 35 anni su questa terra io non ho mai sentito la Fiorentina portata così in alto non ho mai sentito la Fiorentina che frequenta certi club così prestigiosi ed oggi grazie a Rocco Commisto è così perché la Fiorentina può come detto fare uno step ulteriore di crescita può fare uno step di crescita che gli è mancato nel corso degli anni Commisto è arrivato qua e come diceva non ha trovato niente a livello di strutture di fatto la Fiorentina non aveva a disposizione un singolo spazio da utilizzare se non quelli ovviamente comunali come il Franchi e quindi insomma questo è sicuramente un giorno storico e un giorno in cui la Fiorentina fa un passo in avanti un passo che sarà sicuramente poi da valutare anche con i risultati ma non ci dobbiamo secondo me fermare a guardare questa struttura e a pensare solamente al risultato io prima chiedevo ai tifosi quanti punti ci può portare in dote questo centro sportivo ma non è solo quello non è solo quello a livello filosofico oggi abbiamo una Fiorentina più forte allora grazie davvero allo splendido lavoro di Fabio Ferri che ringrazio davvero per la sua professionalità Fabio ci vediamo presto grazie davvero grazie a voi un saluto a tutti gli amici di Toscana TV torniamo in studio con le parole di Nicola Sbordisso uno degli scouter di fatto della Fiorentina che nelle sessioni di calciomercato hanno portato tanti importanti giocatori e che ovviamente ha speso anche un libro dei ricordi legato alla sua ex carriera da calciatore in relazione al Viola Park vorrei guardare indietro e aver avuto la possibilità di allenarmi perché poi alla fine il calciatore i calciatori vivono tanto del pane quotidiano che è quello di venire a un gioco sportivo di questo livello stare bene fare gruppo e pensare all'obiettivo di domenica in un contesto che ti dà tanto quindi ci penso tanto ogni volta che sto qua mi sarebbe piaciuto molto molto essere così adesso lo vivo da dirigente per noi è tanto è un marco è una carta di presentazione innanzitutto per tutto il mondo a livello tecnico perché ovviamente io non posso parlare della società parlo della parte tecnica e a livello tecnico diciamo è un qualcosa che ci dà tanto e ci darà risultati in campo sicuramente come qualità di lavoro come qualità di vita dei calciatori e soprattutto vedere la Fiorentina che va in alto in basse a questo i vostri messaggi da casa con Lorenzo che parla di Firenze Santa Maria Rovella e tra poco ti faremo una sorpresa sotto questo punto di vista legato alla musica e alle canzoni della Fiorentina ma ascoltiamo anche le parole di un ex portiere della Fiorentina veramente un grande Francesco Toldo che in una pillola ha fatto capire il Viola Park l'inglese americano è gratificante credo che la società abbia fatto un desiderio della squadra della società e dei tifosi e della storia della Fiorentina perché è unico io prima di salutarvi il Viola Park è unico queste sono le parole di Francesco Toldo riguarderei in un flash lo spettacolo dei droni perché oggettivamente ciò che è stato fatto anche come cerimonia è un qualcosa di meraviglioso che a nostro avviso a livello redazionale si va a incastonare perfettamente con la bellezza di Firenze guardate queste immagini sono giochi che forse non si sono ancora mai visti che dipingono delle immagini di fratellanza di storia di gioco ovviamente del calcio ma è un qualcosa di meraviglioso e con l'occasione colgo davvero l'occasione per ringraziare il direttore Marco Talluri Fabio Ferri dal Viola Parche con Federico Salvi che ha lavorato tutto il giorno per permetterci di andare in onda stasera con questa qualità così come Leonardo Aloè Samuel Salvadori regia con l'editore Maurizio Salvi e Fabio Verluni alle camere alle parti tecniche perché insomma stasera davvero l'emozione è tanta nel potervi raccontare quello che è successo perché oggi Firenze e la Fiorentina hanno una nuova struttura la Fiorentina ha una nuova casa una vera casa che ci ospichiamo possa portare tanti successi quindi nel salutarvi e nel augurarvi buonanotte e ricordarvi gli appuntamenti dalle 13 alle 19 del TG Sport di domani e alle 21 Casa Viola parleremo ovviamente tantissimo ancora di Viola Parche con le parole dei protagonisti ma non solo vi vogliamo lasciare con un regalo prima del film di John Wayne di Martin anche questo davvero da non perdere perché due grandi artisti col cuore Viola Paolo Vallesi e Marco Masini hanno voluto cantare una canzone specialissima ovviamente l'inno della Fiorentina in chiave moderna anche nella memoria di Narciso Parigi allora a me non resta che augurare a tutti voi una buona notte viva il Viola Park la risca al vento la parola Viola sui campi della sfida e del valore con la speranza viva ci consola abbiamo 11 entreti e un solo cuore oh Fiorentina di ogni squadra ti vogliamo regina oh Fiorentina combatti ovunque ardita e con valore nell'ora di sconforto e di vittoria ricorda che nel calcio tu ha la storia le mani maria Viola lotta con vigore per esserti Firenze vanto e gloria sul tuo essillo scrivi forza e cuore e nostra sarà sempre la vittoria oh Fiorentina di ogni squadra ti vogliamo regina oh Fiorentina combatti ovunque ardita dai con valore nell'ora di sconforto e di vittoria ricorda che nel calcio tu ha la storia forza Fiorentina ale Viola ale Viola alhali ti vogliamo regina chi non si ti vogliamo regina a Grazie a tutti. Grazie a tutti.